devo accendere eccoci buonasera a tutti buonasera a tutti sto cercando di accendere siamo organizzatissimi quasi quasi organizzati non vanno ok aspettiamo di vedere se ci sentono e se ci vedono intanto guardo anche a no non voglio condividere questo ok scusate stavo condividendo il quiz già ma non volevo condividerlo era uno spoiler come state abbiamo deciso di fare una diretta questa sera e c'è anche giulia con me ciao a tutti perché vogliamo fare un quiz ma in realtà non sarà un quiz di italiano sarà un quiz di natale un quiz più culturale ma è più una scusa per salutarci farci gli auguri farci gli auguri di buon natale di felice anno nuovo e per stare un po insieme questa sera ok direi che ci vedono vedo tanti nomi conosciuti quanti siamo che ultimamente non mi dà più i nomi siamo sì circa 70 per il momento ok però ho già spoilerato un po perché ho mostrato la prima slide vabbè però non c'era la soluzione ok benissimo cosa facciamo cominciamo già magari sì 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 dai iniziamo siamo in 107 adesso se no magari aspettiamo ancora un minuto aspettiamo ancora un minuto intanto guardate come ci siamo tutti agghindati ma vanno le luci dovrebbero andare ma hai spinto il bottone sì ma secondo me è scarica la carica e scarica la pila vedi che no non vanno niente va bene comunque ci siamo la mia ero tentato di indossare la parrucca di paolino ma giulia mi ha detto di no no non è in tema natalizio e quindi niente allora siamo in 126 vogliamo cominciare il nostro quiz quindi come abbiamo anticipato sarà un quiz di natale con delle domande sul natale su delle tradizioni su delle espressioni dei proverbi esatto natalizi ovviamente o comunque legati alle festività di questo periodo e alcune saranno molto semplici altre magari potrebbero essere un po più difficili ma poi ci direte proviamo allora proviamo a condividere ok questa è la prima domanda saranno 15 domande saranno 15 domande e le prime saranno ovviamente facili ciao lorette ciao lorette grazie grazie per la donazione lorette sei sempre super gentile è un piacere averti qui allora la prima domanda è come è chiamato il periodo che precede il natale ci sono già un sacco di risposte velocissime perché all'inizio mostravo già la domanda ok mi state dicendo b questa era facile parliamo quindi delle prime delle quattro settimane precedenti al natale quindi l'avvento perché la quaresima invece è il periodo prima di di non natale ma pasqua invece pasqua ok la quaresima si mi hanno chiesto la quaresima cos'è la quaresima è il periodo che precede la pasqua sono i 40 giorni prima della pasqua esatto che non è la quarantena è la quaresima mentre l'avvento sono le quattro settimane che precedono il natale l'epifania invece riguarda il 6 gennaio ma ne parleremo fra un pochino vediamo la seconda domanda anche questa è semplice qual è il nome del giorno che precede il natale era tua questo è lo so ma sono abituato a fare le dirette sono abituato a lavorare da solo mi sto abituando adesso ad avere una socia allora leggo le risposte vespro di natale notte buona o vigilia di natale dicono ci dicono tutti ci mentre noi parliamo loro ovviamente vanno avanti sono super veloci allora esatto la vigilia di natale corretto il vespro di natale cos'è il vespro di natale è la preghiera del della sera praticamente esatto quindi secondo la liturgia cattolica è sì la preghiera o il canto della sera perché poi il vespro in realtà è anche proprio il tardo pomeriggio il periodo del tardo pomeriggio però nella liturgia cattolica indica la preghiera della sera esatto invece la notte buona è un trabocchetto una piccola trappolina che ha preparato giulia per chi parla spagnolo perché in spagnolo la vigilia è noce buona allora abbiamo detto ma mettiamola come opzione per vedere se riusciamo a ingannare qualcuno ma siete stati tutti bravissimi ok numero tre in quale città è stato inventato il pandoro milano verona o padova franco dice io parlo spagnolo magari messico se ci confermi che anche in messico si chiama noce buona così conosciamo anche un'espressione nuova qui stanno arrivando simile che dice vigilia significa un giorno prima quindi ovviamente la vigilia di natale e il giorno prima di natale ma vigilia può essere qualsiasi giorno precedente a un evento esatto ok vediamo qua dicono a a b a c a a b tantissime a tante a mi dite milano secondo me vi state confondendo con il panettone il pandoro è stato creato è stato inventato a verona infatti le grandi aziende di pandoro la bauli sono a verona è la città del pandoro che io preferisco invece io preferisco il panettone perché nel panettone c'è l'uvetta l'uvetta sapete che cos'è uvetta uva sultanina e per me è molto buona grazie elisa benvenuta ma non riusciamo è qua perché se no se non vediamo la la presentazione francesco di poter vedere i commenti ma va bene lo stesso perché se no non riesco a far andare alla presentazione ok verona verona è vero e la differenza fra pandoro e panettone allora la ricetta è un po diversa adesso io non non sono un esperto di ma la differenza più grande è che nel pandoro non c'è l'uvetta esatto dopo ovviamente probabilmente c'è qualche differenza anche a livello di ingredienti però la differenza principale è questa esatto quindi io detesto l'uvetta e quindi non riuscirei mai a mangiare il panettone e poi il pandoro viene ricoperto di zucchero a velo mentre il panettone no 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 ok il pan ci sono delle ricette buonissime con il pandoro che è un dolce non so il nome in realtà è un dolce simile al tiramisù però fatto con il pandoro quindi c'è il pandoro con la crema di mascarpone con la nutella anche sono dei dolci con pochissime calorie quindi perché a dieta è perfetto dire a rachel dice mio marito italiano di milano lui ha sbagliato no no guai assolutamente ok allora andiamo avanti con la quarta domanda che cosa portano i re magi a gesù bambino ecco io le risposte sì oro incenso e mira oro incenso e birra oro incenso e olio dai questo è facile aspettiamo tutti a tantissime a siete sicuri che non portino la birra ok siete stati bravi oro incenso e mirra quindi non portano la birra e non portano l'olio a gesù anche perché offrire la birra a un neonato a un neonato quindi oro incenso e mirra perfetto allora passiamo alla 5 leggi la moto continua il seguente proverbio natale con i tuoi epifania con chi vuoi capodanno con chi vuoi pasqua con chi vuoi vediamo se conoscete questo proverbio tra l'altro molto usato si è molto usato quindi natale con i tuoi che con i tuoi intendiamo i tuoi senitori o comunque i tuoi familiari esatto qua dicono b c se la contendono la b e la c quindi capodanno e pasqua siete sulla strada buona in effetti nessuno propone a qualcuno l'ha è lo stesso in franza jean lui dice tra l'altro vedo che prima mi pare franco abbia scritto per me la birra si anch'io preferisco la birra alla mirra quindi diamo la soluzione adesso prevalgono le b vediamo vediamo rullo di tamburi pasqua con chi vuoi il proverbio dice natale con i tuoi pasqua con chi vuoi quindi secondo diciamo la tradizione natale si festeggia con la famiglia quindi a casa con la famiglia mentre la pasqua molto spesso ma non sempre si passa magari con gli amici si fanno delle scampagnate o delle gite questo anche perché la temperatura è un po più gradevole a pasqua quindi soprattutto adesso in pianura padana la temperatura è molto rigida è un inverno abbastanza rigido ok quindi natale con i tuoi pasqua con chi vuoi ma il natale è tassativo si passa tassativamente con la famiglia ok numero 6 quale tra queste è la città più famosa per la produzione delle statuine del presepe o presepio presepe o presepio napoli catania o bari anche in brasile cassiano dice si usa quell'espressione vedi 10 gradi franco wow ma qua ce ne sono due mi dicono a a b a a napoli in polonia cracovia ok ok ovviamente napoli riccardo esatto anche luisa vince napoli vediamo corretto esatto a napoli c'è san gregorio armeno che è la via più celebre per la produzione di queste statuine è una strada piena di botteghe di artigiani e di maestri prese piai non mi ricordo come si si dica quindi è piena di artigiani che producono e confezionano queste statuine che poi vengono distribuite nelle varie città per fare i presepi quindi napoli è molto famosa appunto per la produzione di queste statuine come assisi è molto famosa per i presepi non a caso sembra che il presepe sia stato inventato proprio da san francesco ok vediamo qua cosa dicono ok giulia sei veramente bellissima ti dicono è vero ok numero sette questo è interessante perché ci riguarda da vicino che cos'è il pan papato un tipo di pane un dolce natalizio un canto di natale il pan papato che cos'è secondo voi dopo vi spieghiamo perché abbiamo detto che ci riguarda da vicino iniziano arrivano le risposte l'ospedale di Lodi ha già messo il Gesù bambino nel cesto non si mette il Gesù prima di Natale non è ancora nato quindi A B C B A C B B C C Marino dice non lo so ok molte C e molte B vedo il pan papato o pan pepato pan papato o pan pepato B C D molte B molte B molte B ok dunque presepi e pizze è a Napoli sì C allora diamo la soluzione diamo la soluzione vi abbiamo messo anche il pan papato è tipico di Ferrara il pan papato top di Ferrara e quindi della nostra città ed è un dolce eccolo qui e ho questa immagine rubata da ferrara terra e acqua punto it e questo è il dolce esatto ha una storia particolare perché questo dolce è stato inventato da delle monache del corpus domini di Ferrara nel seicento quindi nelle seicento queste monache hanno preso ispirazione da una ricetta rinascimentale per creare questo dolce ed era un dolce dedicato e indirizzato a personalità prestigiose come il papa infatti l'ingrediente principale è il cacao che all'epoca era un ingrediente molto pregiato molto costoso e quindi era usato per dei dolci destinati a delle personalità di spicco come il papa per questo il nome era pan del papa che poi è diventato pan papato o pan pepato quindi sono due nomi cambia una lettera in realtà ma il dolce è sempre quello e come vedete l'ingrediente principale è ovviamente la cioccolata e poi dentro ci sono le mandorle e anche i frutti canditi e anche delle spezie e poi viene completamente ricoperto di cioccolato fondente è molto buono tra l'altro per esempio la mia mamma lo fa in casa già proprio una tradizione di famiglia perché è proprio un dolce di Ferrara io sono un guastafeste come sempre o un bastian contrario e quindi non è un dolce che io amo questo quindi io non amo il pan papato ma quello della Graziella di sua mamma è veramente buono e quello lo mangio anch'io vi sapremo dire quest'anno come sono venuti non c'è anche del caffè dentro? no non mi pare ah no ok quindi questo è il pan papato Silvia mi chiedeva ma come si chiama quella cosa che ha in testa Giulia ah questo un cerchietto sì questo è il cerchietto in realtà quindi senza i babbi natali è un cerchietto quello che usano quello che si usa non solo le donne ma insomma chiunque abbia i capelli lunghi può indossare un cerchietto poi queste sono delle molle sono delle molle con la faccia di babbo natale sopra comunque era sicuramente cerchietto la parola che voleva cerchietto ok quindi questo era il pan papato fantastico numero 8 vai tu allora che cosa si dice del giorno di santa lucia che è il 13 dicembre è il giorno più corto che ci sia è la notte più fredda che ci sia ogni desiderio è magia vediamo le vostre risposte stanno arrivando allora a lettera c santa lucia è il giorno più corto che ci sia è la notte più fredda che ci sia ogni desiderio è magia tantissime c la rima è c la rima c'è sempre nelio dice non ne ho idea qui ho una un gran numero di c tantissime tante c quindi santa lucia ogni desiderio è magia siete così romantici non l'ho mai vista tomoko spero che sia la c penso che possa essere la c spero che sia la c qualcuno propone a qualcuno propone a nessuno b no b non è gettonata la notte più fredda che ci sia che potrebbe anche essere sì qualcuno ha detto b quindi manolo dice che per santa lucia si accorcia la notte si allarga il giorno benvenuta marta anche se sei in ritardo siamo felici di averti qua diamo la soluzione diamo la risposta santa lucia è il giorno più corto che ci sia secondo la tradizione il giorno di santa lucia il giorno di santa lucia è il giorno con il giorno più corto che ci sia o il giorno con la notte più lunga che ci sia ovviamente questo è quello che dice la tradizione popolare esatto in realtà sappiamo che la notte più lunga e quindi il giorno più corto coincide con il solstizio d'inverno quindi il 21 dicembre sì intorno al 21 dicembre quindi questo lo dice la scienza però a noi piace pensare che il 13 dicembre è il giorno più corto che ci sia ok in realtà adesso non ricordo bene la storia però c'era il passaggio al calendario gregoriano e quindi il papa dell'epoca ha eliminato dei giorni a ottobre e quindi il solstizio cadeva il 13 dicembre però non sono sicuro di quello che più o meno è così ma dovrei andare a rileggere la storia però comunque secondo la tradizione popolare il 13 dicembre è il giorno più corto che ci sia ma sappiamo che non è così secondo la scienza secondo la scienza esatto vediamo una domanda numero 9 il 13 giugno è il giorno più lungo no rimane sempre il solstizio d'estate il 21 giugno ok numero 9 come si chiamano i re magi che sono sempre i tre signori che hanno portato la mirra a Gesù Melchiorre Gaspare e Baldassarre Melchiorre Gaspare e Bonifacio o Melchiorre Giuseppe Baldassarre anche questa dico la verità ho dovuto ripassarla anch'io vediamo tante A tante A beh questa insomma è una risposta abbastanza conosciuta ah 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 quindi io ero l'unico che aveva dei dubbi su questo tutte A esatto vogliamo dare la risposta i re magi si chiamavano Melchiorre Gaspare e Baldassarre esatto ok andiamo alla numero 10 leggo io allora secondo la tradizione quale legume se mangiato durante la cena di Capodanno porterà fortuna per tutto l'anno i ceci i ceci le lenticchie o i piselli quindi uno di questi legumi se mangiato a Capodanno si dice porterà fortuna per tutto l'anno successivo vediamo sono curioso di vedere qua stiamo parlando della tradizione italiana beh certo sì sì ovviamente perché so che in altri paesi esiste questo ma sono altri cibi mangiati credo che sia la B Sandra altre persone dicono B che buono il panettone Elsa hai ragione no no più buono il pandoro Ellie dice non lo so mia moglie dice che è la B Nelio ok vediamo se tua moglie ha ragione B certamente ok da noi in Belgio nessuno dei tre sì so che ci sono dei paesi in cui si mangiano i fagioli poi non ricordo però sì qui in Brasile mangiamo le lenticchie esatto quindi la tradizione italiana è come quella brasiliana ok esatto quindi esatto le lenticchie andiamo alla 11 ah qui andiamo qui andiamo un po' più avanti esatto quindi non siamo più nel periodo di Natale o di Capodanno ma siamo al 6 gennaio quindi il giorno o la notte del 5 o la notte del 5 insomma tra il 5 e il 6 gennaio quale mezzo di trasporto usa la Befana anche questo è facile però la scopa la slitta o la bicicletta vediamo la scopa la scopa la scopa la scopa la scopa però possiamo fare una domanda un po' difficile hai già in mente la domanda la facciamo dopo sì sì ma si collega a questa tantissime A bravi benissimo esatto e questa è la la Befana esatto ma adesso facciamo una domanda difficile sapete di che materiale è la scopa della Befana secondo la tradizione non lo sapevo neanche io di che materiale è la scopa della Befana che tipo di scopa usa la Befana quindi la scopa è un mezzo di trasporto adesso sì per la Befana sì ma la Befana è magica è un mezzo di trasporto per la Befana Ellie dice legno quasi sì il manico è di legno non la sapevo neanche io però ci siete quasi io non mi ricordo neanche il nome si chiama scopa di saggina la saggina la saggina la saggina esatto è il materiale che comunque sì sono praticamente i rametti ah Isabella l'aveva scritto ah vedi bravissima sono i rametti di una pianta praticamente e quindi sì in effetti è un tipo di legno praticamente però si chiama scopa di saggina esatto e la scopa sembra una vecchia una strega cattiva in realtà è buona la Befana cosa ho detto la scopa la Befana sembra una strega cattiva in realtà è buona perché porta i dolci porta anche i regali qualche volta qualche volta porta anche il carbone però in realtà sembra un po' così ma in realtà è buona ah chiedono che cos'è la saggina sì è il nome di una pianta sì e con i rametti questa pianta compongono praticamente la scopa in effetti tuttora serve per spazzare per esempio gli esterni per spazzare per esempio non so le parti esterne appunto fuori fuori di casa non si usa per spazzare in casa ma per spazzare gli esterni siete meravigliosi insieme ci dice Marta grazie grazie ok abbiamo capito quindi che la saggina è il materiale della scopa della Befana perfetto numero 12 vai quale santo si festeggia il 31 dicembre San Bernardo San Daniele o San Silvestro linda dice semplice sì dai questa è abbastanza facile in effetti c c c c c c c c tutti dicono c tantissime c allora vediamo se avete ragione San Silvestro corretto San Silvestro il 31 dicembre numero 13 questo è un altro sì un altro detto italiano esatto vai dillo tu la Befana che poi è una filastrocca quindi è una filastrocca italiana la Befana viene di notte a con le calze tutte rotte con le scarpe tutte rotte o con un sacco di ricotte A B o C qualcuno dice che viene con un sacco di ricotte perché le porta i bambini giusto qualcuno con le calze tutte rotte David dice con le scarpe tutte rotte anche Mary lettera B dicono A B C sì qui c'è risposte molto diverse esatto esatto c'è una filastrocca che dice la Befana viene di notte con le tutte rotte Sandra dice non lo so allora la filastrocca dice la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla romana viva viva la Befana però ci sono anche altre versioni di questa filastrocca ci sono secondo il sito che ho trovato ci sono 12 versioni differenti ovviamente non le leggiamo tutte però la prima versione dice la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana viva viva la Befana le toppe sono il tessuto che viene usato per riparare per coprire i buchi esatto nei vestiti quindi con le toppe alla sottana significa che ha le toppe sulla gonna esatto un'altra versione c'è quello il cappello alla romana viva viva la Befana la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte e quello è fisso porta un sacco pien di doni da regalare ai bimbi buoni io conoscevo quella del cappello alla romana vedi la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte con la scopa di saggina viva viva la nonnina ok sì sono tantissime però diciamo che le prime due i primi due versi sono questi la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte andiamo alla penultima domanda di questo quiz di Natale ah questa è bella vediamo se conoscete questo modo di dire esatto perché questo è un modo di dire se qualcosa dura da Natale a Santo Stefano significa che dura per tutte le feste dura solo due giorni dura poco tempo eh questa cosa dura durerà da Natale a Santo Stefano che cosa vuol dire? l'espressione quindi l'espressione idiomatica è durare da Natale a Santo Stefano stanno arrivando già delle risposte a B C C A C ma non lo so dice Ruta anche questa è un'espressione che non è sicuramente tra quelle più usate ma comunque è usata il giorno dopo che dura poco Riccardo mi sembra che sia la C mi sembra che sia la C e mi piace molto il congiuntivo usato in questa frase bravissimo c'è qualcuno c'è qualcuno che dice D ma la D non c'è ma forse si è sbagliata ad agitare la giusta è A allora facciamo un esempio ok dai facciamo un esempio in cui immaginiamo che io vada a comprare un paio di scarpe domani torno a casa e dico amore ho comprato un paio di scarpe bellissimo era un'offerta incredibile con 7 euro ho preso un paio di scarpe bellissimo e la mia risposta sarà senti per 7 euro sono scarpe che dureranno da Natale a Santo Stefano con 7 euro che scarpe sono? sono delle scarpe che durano poco tempo quindi qualcosa che dura da Natale a Santo Stefano è qualcosa che dura da poco tempo quindi può essere anche non so un telefono nuovo ho comprato un telefono da 50 euro il rischio è che duri molto poco il rischio è che duri molto poco qualcuno potrebbe dire un telefono che costa così poco durerà da Natale a Santo Stefano è molto usato è usata soprattutto in merito ad acquisti o a oggetti si può usare magari anche con rapporti o per le relazioni per le relazioni quindi ma quei due non li vedo molto bene insieme non sono una bella coppia dureranno da Natale a Santo Stefano quindi è una relazione che durerà poco da Natale a Santo Stefano quindi hanno scelto Natale e Santo Stefano per indicare comunque un brevissimo periodo esatto un periodo di tempo molto breve proprio poco ma non è necessariamente un giorno o due giorni e non necessariamente durante le feste esatto quindi possiamo usare questa espressione in qualsiasi momento dell'anno ok perfetto abbiamo l'ultima domanda la numero 15 bella questa è mia vai no che mia nel senso che sì la legge tu certo no nel senso che è stata un'idea mia ah ok che cos'è un cine panettone o cine trattino panettone a è un tipo di panettone b è un film comico di Natale o c è una serata passata sul divano guardando un film e mangiando panettone questa è la domanda di cui sono più orgoglioso vediamo vediamo le risposte molti rispondono c perché giustamente nelle domande risposta multipla la risposta più lunga è sempre quella vera vero beh qualcuno dice anche b però qualcuno dice anche b un film comico di Natale Jean-Louis l'ho imparato qualche giorno fa c b Marta non l'hai mai sentita secondo te è c se la risposta non è c allora hai inventato bene eh sì non si sa è qui vedi ma tanti dicono c eh vi vedo un po' in difficoltà vedo a b c sì ci sono anche molte c cosa facciamo un cine panettone abbiamo qui un po' la parola lo dice vi ho fregato un po' con la c devo dire la verità diamo la soluzione il cine panettone è un film comico di Natale quindi sono delle commedie natalizie che escono appunto nei cinema nel periodo di Natale quindi le classiche commedie con De Sica e Lino Banfi che a me non sono mai piaciute particolarmente però sono tipiche del periodo natalizio ed è chiamato cine panettone quindi il cine panettone 2021 sarà qualcuno mi ha dato il nome di un film sopra chiediamo a Christian De Sica a Rudolf esatto ok non trovo più il titolo del film che mi aveva dato chi ha incastrato Babbo Natale sempre Rudolf esatto ah è vero è vero sì quello di quest'anno esatto esatto quindi com'è andata? beh direi che sono stati bravissimi sì quindi non era un quiz difficile alcune cose però magari forse la cosa più interessante sono stati i proverbi e i modi di dire esatto avete imparato la filastrocca della Befana la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla romana viva viva la Befana esatto abbiamo imparato o ripassato l'espressione durare da Natale a Santo Stefano che significa durare poco tempo e quindi è una risposta che potete dare se qualcuno compra qualcosa che è abbastanza economico o sembra non avere una qualità molto alta e poi abbiamo imparato che cos'è il pan papato esatto quindi è un dolce tipico abbiamo visto un po' anche la storia no? delle monache che lo producevano è nato come pan del papa è diventato poi pan papato o pan pepato e se venite a Ferrara lo trovate in tutti i panifici praticamente sì qui è proprio il dolce tipico tutti mangiano a parte me il pan papato e quindi sì qua ci sono pan papati artigianali ovunque si trovano ovunque e poi cos'altro abbiamo imparato oggi abbiamo imparato che questo è un cerchietto esatto e poi niente che Gesù non beve la birra ok sono golosa di panettone ah vedi erzevette sì io no io sono il bastian contrario Jean-Louis dice in parole povere culturale divertente amichevole grazie mille grazie mille a te è stato bello è stato divertente le mie luci ancora non funzionano no ma sono scariche ah ecco quale domanda volevo inserire nel quiz come si chiama facciamo una domanda extra la numero 16 ci state come si chiama questo come si chiama questa decorazione che si mette in cima all'albero di Natale vediamo se arrivano le risposte come si chiama come si chiama Francesco un po' pignolo Agilli sì tu mi conosci molto bene come si chiama quindi quella decorazione a forma di ma Agilli dice la stella di Natale il nostro in effetti ha la forma di stella però potrebbe anche non essere una stella esatto quindi non è sempre a forma di stella quindi il nome è generico possiamo dare un indizio qualcuno l'ha scritto però beh io vi do un indizio a volte è più appuntito cioè anche questa stella è appuntita ma no va sulla punta dell'albero esatto ed è più appuntito quindi come ha scritto Jean-Louis come ha scritto anche altre persone si chiama puntale esatto è il puntale dell'albero di Natale quindi questa era una domanda extra anche Mary ha scritto anche Silvia esatto il puntale di Natale ok così avete visto anche il nostro albero vi piace quest'anno sui toni del rosso sì Giulia ha comprato i fiocchetti nuovi ebbene ok Tomoko vorrei mangiare il pan papato la ricetta c'è magari dopo sotto a questo video metterò il link alla pagina da cui ho preso la foto che include anche un pdf con la ricetta se qualcuno vuole sbizzarrirsi e fare il pan papato ah Lorette Venus mi manda un bacio grazie ciao Lorette ciao Venus quindi anche i gatti ci seguono ok dov'è la cagnolina hanno chiesto è Hope è a casa dei genitori di Giulia perché hanno il giardino invece noi viviamo in un appartamento e quando è qua comincia a stranutire perché forse le dà fastidio un po' il riscaldamento non abbiamo mai capito comunque sicuramente è nella sua puccia a dormire sì dorme dorme più di un koala dorme 19 ore al giorno l'oppina Adriana infatti ah Adriana ciao ah è lei ciao Adriana adesso ho collegato ho visto il cognome ok che bello siamo in più di 200 tantissimi ok quindi abbiamo colto questa occasione per salutarvi vogliamo augurare a tutti voi un felice Natale se lo festeggiate e invece c'è delle felici giornate se non lo festeggiate no vi auguriamo anche un felice anno nuovo anche se comunque uscirà un video prima della fine dell'anno anche due video prima della fine dell'anno però sarà l'ultima diretta probabilmente del 2021 ci rivedremo sicuramente in diretta più spesso nel 2022 insieme insieme esatto sperando che sia un anno migliore dal punto di vista per tutti pandemico esatto e noi ci vediamo prestissimissimissimo grazie a tutti siete tantissimi e carinissimi grazie di cuore è stato bello avervi qui vi mandiamo un abbraccio forte buonanotte per chi sta andando a letto e buona giornata per chi invece ha appena cominciato la giornata un abbraccio a tutti grazie ciao ciao ciao